questo è soltanto la simulazione con soltanto gli splash attivi perché qui l'hybrid domain l'ho nascosto e ho fermato un attimo la simulazione perché onestamente mi sembrano veramente tanti e poi alcuni sono anche fuori vediamo un attimino questo non vengono toccati da questo nostro possiamo volendo limitare anche lo splash secondo me è troppo alto troppo elevato anche quindi quello che vado a fare è innanzitutto andiamo ad abbassare il numero di emission rate lo portiamo almeno la metà perché francamente preferisco averne di meno in questo caso e poi mi vado a generare volendo io potremmo andare a vedere tasto destro spreadsheet e andare a vedere un attimino la velocità la velocity massima magari delle particelle 0102 non vedo che va molto oltre il 2 però potremmo dare qua un kill volendo potremmo dare un kill age e andare volendo a uccidere un po' le particles dopo un po' la loro emissione oppure dare anche un kill speed in modo tale da creare un range nel quale c'è questo mio controllo diamo sia un kill speed e lo uniamo solo esclusivamente allo splash quindi mettiamolo qua facciamo il remove della nostra unione ok e diamo un massimo speed a 3 giusto per avere un po' un che se diamo a 3 per sicurezza magari almeno ho 2 così creiamo proviamo con questo primo primo range e poi abbassiamo creiamo un altro quindi duplichiamolo volendo questo safe area togliamo questa connessione questa connessione questo safe area che abbiamo qui lo possiamo anche spostare una cosa che non vi ho detto precedentemente il nostro splash ha anche volendo la possibilità di essere regolato a questo cubo sostanzialmente che vediamo qua in visualizzazione che io posso stringere quindi io posso delimitarne l'aria quindi mi va a creare soltanto in alcuni punti quindi andiamo a ridurre l'aria di interesse già questo ci aiuta anche a calcolare molto più velocemente la nostra simulazione infatti vediamo che ci sono delle parti in cui sostanzialmente non ci interessa e anche in questo caso per aumentare e quindi ottimizzare i tempi di calcolo possiamo doppicarci un'altra volta questo nostro seiferia possiamo spostare verso il basso possiamo dare un box in questo caso in modo tale che tutto quello che è in eccesso non viene considerato non viene creato e quindi è molto più leggero quindi è proprio in fase anche di calcolo ok potrebbe andarci bene così volendo se proprio vogliamo essere pignoli ne creiamo un altro ancora ok siamo abbastanza comunque soddisfatti potremmo essere abbastanza soddisfatti perché comunque qui vado a ucciderle ok questi qui sono tutti i miei safe potrei anche creare volendo sto pensando anche di creare un keylage però per ora no lasciamo così salviamo resettiamo la nostra clicchiamo frame zero salviamo ricordiamoci di avere abbassato almeno la metà e lanciamo il common line vediamo che cosa succede grazie a tutti grazie a tutti per la mia